Ciao ragazzi, ciao a tutti Allora, questo video lo dedico a Kaloo e Mirko Due ragazzi che mi seguono E in questo video farò vedere da lontano la mia nuova postazione Con le cose che avete visto nel video precedenti E metterò sotto una canzone che è di Hungerfish Si chiama Spook Iniziamo Eccolo Eccolo Grazie per la visione, arrivederci a tutti Grazie Grazie a tutti